Comandante, un'importante operazione antidroga a Lucera, un centro che negli ultimi tempi non era uscito sulle cronache per questo tipo di reato? Sì, questa è la cosa interessante. È un'attività che è andata a perseguire questo gruppo criminale, dedito allo spaccio ai suoi facenti, soprattutto a cocaina, a Lucera. Quindi aveva dei clienti nella zona Lucera, una realtà dove a volte va meno sulle cronache, fortunatamente, dove però questo non significa che non bisogna focalizzare l'attenzione investigativa, cosa che infatti è stata fatta e cosa che ha portato a smascherare questo gruppo di persone, questo gruppo di soggetti che spacciavano abitualmente cocaina a tutte le classi sociali. Spaccio che avveniva anche a domicilio? Avveniva anche a domicilio, venivano contattati e loro portavano una singola dose di cocaina, acquistando anche sostanze da taglio nei centri vicini, soprattutto qui a Foggia, in farmacia, acquistando queste sostanze da taglio, preparavano le dosi e le portavano ai clienti.